Buongiorno signorina, vorrei mettermi in forma. Ciao amore, che cosa vuoi fare? A scuola tutti mi picchiano perché ho i muscoli molli molli. Dai va bene, facciamo un po' di streccio. Dai tesoro, adesso tocchiamo le punte, vai giù con la schiena lentamente. Non riesco, non riesco. Così, così un po' di più. Non riesco, non riesco. Allora tesoro, prendi il tuo piede e tira un alto così. Non riesco. Dai, dai, vai, ti è andato benissimo tesoro. Non riesco. Dai vai su, vai su col tuo ginocchio. Non riesco, non riesco. Non so cosa mi succede, ho un muscolo che continua a crescere. Alleluia, 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 alleluia.